uè non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi manca solamente il piccone della skin sorana abbiamo già visto nel video precedente come recuperare il dorso decorativo il backpack per il piccone come avete ben capito siamo sulle montagne e più precisamente dove c'è la coppia di montagne basta fermarci esattamente qua in basso a destra e come per magia proprio abbandonato c'è il piccone lo raccogliamo lo portiamo a casa e possiamo dire che l'outfit è completo io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video noi siamo in live su twitch ciao ciao